L'Iran ha lanciato con successo un satellite nello spazio, lo ha annunciato con orgoglio l'agenzia ufficiale di Teheran. E nello stesso tempo, l'Ayatollah Kamenei ha rilanciato le minacce agli USA e a Israele in un discorso pronunciato davanti a migliaia di fedeli. Toni duri per celebrare il 33esimo anniversario della rivoluzione islamica e direttamente rivolti ai leaders del mondo arabo. Non fidatevi degli Stati Uniti o della Nato perché non si curano dei vostri interessi né dei vostri paesi. Non abbiate più paura di loro perché sono deboli. Il loro assalto contro il mondo musulmano è il frutto delle nostre paure e della nostra ignoranza durate 150 anni. Da Washington intanto trapelano le opinioni prevalenti nello staff del segretario alla difesa, Leon Panetta, secondo il quale Israele potrebbe a primavera attaccare l'Iran per distruggere le sue installazioni nucleari. Uno dei primi siti che potrebbero venire presi di mira si trova a Fordow, nei pressi della città santa di Qom. Proprio questo impianto, secondo quanto hanno riferito i responsabili iraniani, destinato all'arricchimento dell'uranio, potrebbe presto diventare operativo, cominciando nei fatti la produzione. Grazie a tutti.